Salerno. Ieri sera presso il Centro Sociale a Salerno si è svolta una serata di commozione ricordando Margaret Cittadino ad un mese dalla dipartita. Tanti amici, conoscenti, politici, del mondo sindacale, dell'associazionismo di cui era coordinatrice nell'ambito ospedaliero dell'Associazione dei diritti cittadinanzativa Tribunale per i diritti del malato, hanno voluto testimoniare con la presenza fisica la vicinanza e l'affetto di amore a Margaret. Si è fatta proposta anche di attuare un memorial celebrativo al ricordo, per non dimenticare e creare valori educativi civili di tutela e di rappresentanza per le nuove generazioni future. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa di cittadinanza attiva.